Un altro tassello si è aggiunto ieri al nuovo Benevento che intende disegnare Marco Baroni per la prossima stagione in Serie A. L'esterno difensivo ambidestro Gaetano Letizia, 27 anni del Carpi, che ha trovato l'intesa per un triennale con il Benevento. Avversario dei giallorossi fino a poche settimane fa nei play-off, adesso ne sarà una delle colonne. Raggiunge il compagno di reparto, il portiere sloveno Vid Belez, che pure si è legato per un triennio ai Sanniti. Entrambi gli ingaggi saranno comunicati la prossima settimana, quando del resto ci sarà l'apertura ufficiale del mercato. L'arrivo dell'esterno napoletano probabilmente costringerà la società ad un doloroso distacco con Walter Lopez, a meno che il tecnico non decida di tenere l'uruguaggio nella rosa anche per la prossima stagione, visto che è un importante e fondamentale uomo spogliatuio. Tra l'altro lo stesso Letizia può giocare anche a destra. Continuano le altre trattative per completare i vari reparti e la sensazione è che nei prossimi giorni ci saranno una serie di annunci, considerato che l'altro sabato la comitiva giallorossa già partirà per il ritiro di Sestola e l'intenzione è di avere la stragrande maggioranza della rosa al completo. Intanto in casa Sannita si lavora anche per il settore giovanile, con il presidente avvocato Reste Vigorito che ha reso noto l'organigramma per la prossima stagione, con Diego Palermo che sarà l'amministratore delegato. La novità dell'ingaggio di Nicola Romaniello, ex allenatore delle prime squadre di Casertana e Melfi, alla guida della primavera e l'arrivo di Pasquale Foggia come direttore sportivo. Manuel Landaida invece sarà lo scouting per l'estero, mentre Simone Puleo seguirà i giovani promettenti in Italia.